Marco Morani, allenatore dell'Under 17 del Trestina, un incompio diverso rispetto all'anno scorso? Sì, quest'estate sono stato chiamato per prendere l'Under 17, il secondo anno che mi trovo qui a Trestina, una società stupenda sotto tutti i punti di vista. Lascio una prima squadra, riparto da un gruppo giovanile di belle speranze, abbiamo già iniziato con delle attività all'aperto, ci vediamo tre volte a settimana, aspettiamo il primo ingresso nelle palestre per poter mettere in pratica quello che stiamo svolgendo in questo momento. La società mi ha dato questo compito di portare avanti questo gruppo giovanile e metterò tutta la mia esperienza per poter ottenere il massimo da queste ragazze.